Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati con la seconda parte di questa serie di video che sto facendo su come leggere e scrivere nel database di Joomla, utilizzando Joomla. Il video scorso abbiamo visto come andare a tirare fuori dei dati, quindi a tirare fuori dei dati per esempio degli articoli, fare una specie di ricerca avanzata. Se non l'avete visto, andate nel canale e lì trovate tutto quanto, tutti quei video con delle spiegazioni, esempi, eccetera, eccetera. Nel video di oggi andremo a vedere invece come scrivere nel database di Joomla, quindi come inserire dei dati. Andremo a vedere due modi per farlo, in realtà utilizzando sempre un componente. Questo componente è rsform, perché utilizzo un componente per scrivere nel database di Joomla. Come abbiamo visto, scrivere e leggere, in realtà la differenza sta nella query che io decido di fare sul database. Cos'è la query? È un'interrogazione, cioè dire o chiedere qualcosa a un database. Chiedere cose, la query che viene utilizzata è select, quindi seleziona i dati da una tabella secondo queste condizioni che ti do. Se io invece voglio scrivere, allora quello che devo fare è un insert, quindi inserisci dei dati all'interno di un database. In questo, questo e quest'altro modo. Bene, per farlo è molto semplice. Io creo le query e queste query vengono eseguite, posso usare Sorcerer come abbiamo usato la volta scorsa, e io vado a scrivere all'interno del database. Ma è lunga, è lunga nel senso che io mi devo scrivere a mano le query, devo pensarmele, devo studiarmele, perché come potete immaginare, se io vado a scrivere la cosa sbagliata nel posto sbagliato, il rischio di fare dei danni è notevole. Quindi perché utilizzare se forma? Perché è più semplice, mi velocizza il lavoro in una maniera esponenziale, ma lo utilizzo perché semplicemente quello che fa è crearmi un form, quindi crearmi un form e crearmi delle query. Non mi vado a legare a doppia mandata questo componente, nel senso che se tra un anno smettono di svilupparlo io sono fregato. No, semplicemente mi ha costruito un form, quindi io posso usare un altro componente che fa form e fare la stessa cosa. E se nessun altro sviluppatore di Joomla decidesse di fare dei componenti che creano dei form e delle query, me le faccio a mano, sono semplicemente un form HTML e una query a un database. Quindi non sono legato a un componente che mi legherà per tutta la vita, semplicemente mi serve per velocizzare il lavoro. Quindi, bando alle ciance, andiamo a vedere come inserire dati nel database in due modi, dicevamo. Il primo creando degli articoli, perché come vi dicevo io utilizzo tantissimo il core di Joomla, e il secondo invece inserendo dei dati all'interno di una tabella esterna al mondo di Joomla, ma sempre nel database, oppure volendo, se volete, anche in un database esterno. Quindi, cominciamo, buona visione! Bene, eccoci qua nel nostro solito pannello di controllo di Joomla. Come dicevamo, voglio scrivere all'interno di un database e per farlo utilizzerò uno strumento che si chiama RSForm, è un componente, è un componente a pagamento, quindi non voglio in realtà costringervi o consigliarvi di comprare questo componente. A me non cambia nulla se l'ho comprato o non l'ho comprato, o usate un altro componente, o usate, o preferite scrivere dell'HTML a mano. Io lo utilizzo semplicemente perché è più semplice, è molto più veloce per fare quello che vogliamo fare. Quindi, una volta che l'avete acquistato, semplicemente dovete installarlo come ogni altra estensione di Joomla. Quindi si va in Sistema, Installa, Lo andiamo a prendere, io l'ho inserito qua nel mio desktop, quindi comrsform, che è il componente principale, più andremo a installare anche un plugin, che è il plugin degli articoli. Perché? Che cosa vuol dire? Che RSForm di base ti fa creare un form e ti fa mandare una mail con i contenuti del form, è quello per cui è nato. Negli anni è stato, sono state sviluppate un sacco di altre cose che ti permettono di espandere la funzionalità del componente. Una di queste cose è la possibilità di creare articoli di Joomla con RSForm. Si fa tramite un plugin che è compreso nel prezzo, quindi non va pagato in più rispetto alla licenza di RSForm, però si installa a parte. Quindi è un plugin, io prendo, lo carico e lo installo. Attendiamo, ecco che l'ho installato. La prima cosa da fare è andare a vedere se è attivato, quindi vado in plugin, cerco RS, è tutto, sì c'è tutto, ecco, create articles è qua in fondo, è pubblicato, lo abilitiamo. Allora, se non sapete come funziona RSForm, vi consiglio di andarvi a vedere i video che ho fatto qualche mese fa, sono molto esaustivi su come funziona, cosa fa, cosa non fa, quindi magari se qualcosa non vi è chiaro dei passaggi che andrò a fare adesso, andate prima a vedervi quel video lì, poi dopo tornate qua e continuate a vedere questo video qua. Allora, i passaggi che farò comunque sono abbastanza semplici, quindi niente di trascendentale, se qualcosa non è chiaro, come al solito scrivetemi, mettete un commento, eccetera, eccetera, che ne parliamo. Andiamo a creare un form super basico, non mi interessa niente di trascendentale, mi serve solo un titolo e un testo, così andiamo a cominciare a creare qualcosa proprio di molto basic. Quindi andiamo in RSForm, Manage Form, qua ci sono già dei form pre-creati, non ci interessa, ne creiamo uno da zero, quindi questi li spubblichiamo. Clicchiamo su nuovo. E andiamo a crearci il nostro form. Aggiungiamo un field, quindi un campo, cominciamo da un textbox, lo chiamiamo titolo. E facciamo salva. Allora, non starò a fare tutti i controlli, campo obbligatorio, campo non obbligatorio, lunghezza, eccetera, eccetera. Non mi interessa andare così a fondo, perché se no il video mi diventerebbe di 18 ore. Voglio farvi vedere come funziona questo sistema. Poi da qui potete lanciarvi con la vostra immaginazione e creare tutto quello che volete e di tutto di più. Semplicemente qua andiamo a vedere come funziona la base, il cuore di questo sistema. Abbiamo aggiunto un titolo, aggiungiamo una textaria e la chiamiamo testo. L'ultima cosa che ci serve, oltre al titolo del testo, è il pulsante invia. È obbligatorio, ovviamente. Infatti qua ci dice, guarda che non hai messo nessun pulsante invia. Quindi add field. Mettiamo submit but. Lo chiamiamo submit. E mettiamo invia nuovo articolo. Andiamo a vedere la nostra anteprima. Perfetto. Titolo, testo, invia nuovo articolo. No title non mi piace, quindi lo andiamo a cambiare. Andiamo in form properties e andiamo a cambiare nelle form info il titolo. Quindi mettiamo form title, mettiamo invia nuovo articolo, invia articolo come form name. Un'altra cosa che possiamo cambiare è per esempio il messaggio di articolo inviato. Lo mettiamo in un pop up, modifichiamo e scriviamo articolo inviato correttamente. Salva e chiudi. Prendiamo, salviamo. E a questo punto aggiorniamo la nostra anteprima. E vediamo che abbiamo invia nuovo articolo, titolo, testo e il pulsante. Bene, facciamo un'altra piccola modifica nel senso che non lo voglio semplicemente nell'anteprima. Lo andiamo a mettere come home page così è più facile arrivarci dopo nei vari test. Quindi torniamo in administrator. Andiamo in menu, main menu. Home page non sarà più un singolo articolo, è l'articolo che abbiamo fatto col form nel video precedente, ma sarà di tipo rsform pro, form. E andiamo a selezionare invia nuovo articolo che è il form che abbiamo appena creato. In questo modo se io aggiorno l'home page avrò semplicemente questa pagina qua. Molto veloce, molto semplice. Cominciamo a vedere che cosa succede. Io scrivo titolo, scrivo testo, clicco su invia e vi dice articolo inviato correttamente. Allora, io ho installato e abilitato il plugin di crea articolo, ma non è attivo, non sta funzionando, ok? Dobbiamo configurarlo. Quello che ho fatto adesso è semplicemente creare un form. Voglio vedere quello che sta succedendo. Quindi, clicco su annulla. Mail non ne sono arrivate perché non le ho settate. Non mi interessa inviare delle mail, però posso andare a vedere che il mio form sta funzionando perché se a sinistra in submission io vado a vedere qua, invia nuovo articolo, avrò il titolo, titolo e il testo, testo. Andiamo avanti. Voglio creare un articolo. Allora, perché voglio creare un articolo? Come vi dicevo, io utilizzo sempre, spesso, tantissimo il core di Joomla per fare quello che voglio fare. Questo perché? Innanzitutto mi dà la possibilità di sfruttare quello che il core di Joomla dà a disposizione, come per esempio i campi aggiuntivi. E poi soprattutto mi dà molte meno ansie in fase di aggiornamento del sito. Perché? Perché se io utilizzo tanti componenti di terze parti, se io vado ad aggiornare il sito, è facile che qualcosa possa andare storto. Questo perché, lo sappiamo, lo dirò un milione di volte, non uccidetemi. L'aggiornamento di Joomla non è quello che crea problemi. Se io aggiorno da 3 a 4, da 4 a 5, eccetera, di per sé va avanti senza rogne di alcun tipo. Ovviamente se abbiamo un server che può ospitare la versione aggiornata. Quando escono fuori problemi? Quando ci sono delle estensioni di terze parti che creano problemi. Quindi estensioni che non sono state aggiornate, oppure che sono state scritte male, o state aggiornate male. Oppure che sono molto vecchie, che mi ero dimenticato di aver installato, che non sono più aggiornate con le API di Joomla, eccetera, eccetera, eccetera. Io provo ad aggiornare, qualcosa va storto. Io do la colpa a Joomla, ma il problema non è Joomla. Il problema sono le estensioni di terze parti. Quindi io meno ne utilizzo, più sono contento. Più riesco a fare le cose all'interno del core di Joomla, meglio è. Perché utilizzare gli articoli? Perché grazie ai campi aggiuntivi io posso utilizzare gli articoli per fare qualsiasi cosa. Cosa vuol dire qualsiasi cosa? Posso creare un similgestionale, posso creare un gestore di magazzino, posso creare una directory di case o una directory di auto. Questo perché? Perché grazie ai campi aggiuntivi che ho creato posso personalizzare ogni mio articolo, come mi pare. Quindi, quello che andremo a vedere, la primo modo per andare a inserire cose all'interno di Joomla è creando degli articoli. Altra domanda che vi verrà sicuramente in mente. Ok, creo degli articoli, ma perché utilizzare RS Form per creare degli articoli se posso andare nel pannello di controllo oppure utilizzare il sistema di frontend? Domanda legittima, ma in realtà c'è una spiegazione. Allora, innanzitutto il pannello di controllo può essere che io non voglia darla a qualcuno. Anche se è vero, io posso settarlo con le ACL in modo che, per esempio, chi fa login nel pannello di controllo veda solo gli articoli, ma vedrà un pannello di controllo. Non vedrà il sito vero e proprio. Magari io ho dei moderatori che voglio, non voglio fargli sapere che dietro c'è un Joomla, un Wordpress, un Drupolo, qualsiasi cosa. Voglio che vedano soltanto un form di inserimento. Allora io non posso a questo punto dargli, non voglio dargli l'accesso al pannello di controllo. Allora, voi direte, bene, perché non allora non utilizzare il sistema nativo di Joomla per la creazione di articoli? Vero anche quello, ma il problema dell'inserimento articoli nativo è che quello è e quello rimane. Per modificarlo o andate pesantemente a lavorare sugli override, oppure vi bloccate lì. Andare a modificare quel form lì non è per niente semplice, perché è un form nativo, diciamo, di Joomla che non può essere modificato più di tanto sui controlli, non potete togliere dei campi, per esempio. Quindi a questo punto qua, se io voglio farmi un form per i fatti miei, non posso utilizzare quello nativo di Joomla. Anche perché poi lì, per esempio, ci sono un sacco di campi che potrebbero non interessarmi, data pubblicazione, inizio pubblicazione, fine pubblicazione, metadescrizione, metatext, sono robe che magari non mi interessano, non voglio che il mio cliente veda, poi magari si dimentica cose sono, mi chiama per chiedermi che cos'è un determinato campo. Io voglio semplicemente un campo testo e un campo titolo. Fine. Come posso fare? Con rsform. Quindi io mi creo il mio form super basic e con quello che io metto all'interno del form mi creo un articolo. Bene, scusate il pippone, ma era giusto fare un'introduzione sul perché stiamo utilizzando questo sistema qua. Quindi abbiamo il nostro form, l'abbiamo creato, c'è un titolo, c'è un testo, bene, facciamo in modo che quello che io scrivo in titolo e testo vadano a creare un nuovo articolo. Come si fa? Con rsform. Manage form, gestici form, invia un nuovo articolo, che è il form che abbiamo appena creato. In form properties, quindi nelle proprietà, vado in fondo, in fondo, in fondo, e sulla sinistra sotto qua, sotto extras, ho create article configuration, che è il plugin che abbiamo abilitato prima. Qua dentro ci sono un sacco di cose che posso anche in realtà non riempire tutte quante. Andremo a vedere che alcune cose sono obbligatorie e altre no. Che cos'è questa? Questa è una mappatura dei campi del mio form con i campi degli articoli di Joomla. Quindi io dico, quello che è scritto in questo campo qua nel mio form va a finire dentro in questo campo qua, che è quello dell'articolo di Joomla. Che cosa vuol dire? Questo ci permette di creare dei form anche complessi, a più pagine, tre pagine, con 20 campi aggiuntivi, con titolo, con metadescrizione, eccetera, eccetera, con la forma grafica che voglio io, e poi andare a mappare i campi degli articoli di Joomla con quello che io ho inserito effettivamente nel form. Andiamo a vedere come funziona. Innanzitutto ho create article, sì o no, vuol dire abilita o disabilita la creazione dell'articolo. Trigger content plugins on article save. Che cosa vuol dire? Allora, anche qui faccio un altro mini pipone, ma giusto per farvi capire come funziona. Sapete cosa sono i plugin di Joomla? Sono dei pezzi di codice che vengono attivati in determinati momenti della vita di una pagina di Joomla. Vengono attivati tramite trigger, si dice. Cos'è un trigger? È un evento, quindi quando succede questa cosa qua, fai partire questi plugin qua. On article save è un trigger di Joomla, che vuol dire quando io salvo un articolo fai partire i plugin che sono settati per partire quando viene salvato un articolo. Per esempio posso creare un plugin che quando salvo un articolo mi manda, boh, non so, una notifica Whatsapp. Sto dicendo una cosa a caso. Bene, quello è gestito da un plugin che si attiva quando io clicco su salva l'articolo e fa tutti i suoi vari codici per inviare notifiche. Bene, RS4 mi dice vuoi attivare questi plugin che si attivano quando io salvo un articolo? Perché noi qua stiamo effettivamente salvando un articolo, stiamo creando un articolo. Se io lascio su sì, se io metto sì, allora sì, questi plugin vengono richiamati e fanno tutto il loro dovere. Se io metto su no, questi plugin non vengono richiamati e il form è un pochettino più veloce a girare, perché ovviamente non devo far partire del codice che in realtà non mi serve e quindi io semplicemente creo il mio articolo. Show Warning Messages semplicemente vi dice se ci sono dei messaggi di warning che Joomla vi darebbe fuori in caso di invio d'articolo, vuoi farli vedere sì o no? In questo caso lascio no perché gli errori me li voglio gestire io per i fatti miei, non voglio che sia Joomla gestirseli in questo modo, ma anche lì scelta vostra progettuale, potete mettere sì, potete mettere no, scelta vostra. Arriviamo ai campi invece che ci servono, i campi utili e interessanti. Queste qui sono le mappature. Lui mi sta dicendo, ok, l'autore, chi deve essere l'autore? Mi dai l'ID dell'autore? Quando è stato creato? Mi dai la data di creazione dell'articolo? Mi dai la categoria? Eccetera, eccetera. Quindi lui mi sta dicendo, bene, gli articoli di Joomla hanno bisogno di questi campi, dimmi tu che cosa metterci dentro. Sono praticamente tutti facoltativi tranne due. Sono l'autore, che deve avere l'ID dell'autore, e la categoria. Allora, se io non metto l'autore, l'articolo salta dentro fuori, ma poi mi dà un errore, autore non trovato, eccetera, eccetera. Se io non metto la categoria, e qua è fondamentale, l'articolo non mi verrà fuori nella lista degli articoli. Quindi la categoria è necessaria. Non posso non mettere la categoria. Come faccio a metterla? Lui mi dice, dammi l'ID. Cos'è l'ID? È l'ID univoco dell'utente o dell'autore. Andiamo a vedere come si trovano. Gli utenti, per esempio, in gestione utente, io vedo che Pixed, il mio utente superadmin, ha ID 383, è la colonna più a destra della tabella, quindi io prendo questo 383 e lo metto nell'ID dell'autore. Questo vuol dire che l'articolo che io creerò con rsform avrà come autore Pixed. Posso mettere un qualsiasi altro tipo di ID di altri utenti registrati sul sito? Certo, posso fare un po' quello che mi pare fondamentalmente, però ecco, io comunque devo mettergli un ID per l'autore. Andiamo a mettere la categoria. Andiamo in contenuto categorie. In questo caso non voglio metterli in Uncategorize, che è quella standard. Voglio crearmi una categoria ad hoc, quindi creo una nuova categoria e clicco e chiamo articoli inviati da frontend. Prendo e salvo, non mi serve a fare nient'altro. Quello che mi servirà però è questo, è l'ID 9. È l'ID della categoria dove i miei articoli devono saltare fuori. Quindi io prendo questo 9 e me lo metto qua dentro il campo Category ID. Posso andare a inserire e a modificare anche tutti gli altri campi. Per esempio Create Date, la data di creazione. Se io non voglio mettere qualcosa di fisico, fisso, scritto tipo il 10 giugno, posso usare quelli che vengono chiamati placeholder. RS Form mi dà la possibilità di inserire dei, appunto, dei placeholder, adesso non mi viene la parola in italiano, comunque sono intendo dei segni a posto, esatto, tra le graffe, tra delle graffe che mi dicono al posto di questo segni a posto, al posto di questo placeholder, mettimi il valore effettivo. Andiamo a cercare, per esempio, dovrebbe essere Date Added, Global Date Added, vuol dire la data in cui io ho creato o inviato questo form. A questo punto andiamo avanti. Article Title, quale deve essere il titolo dell'articolo? Se io non voglio scrivere qualcosa a mano, io ovviamente devo andare a prendere quello che l'utente mi ha scritto nel campo titolo. Come faccio? Sempre tramite placeholder, quindi io clicco sulla freccettina, andiamo a prendere, titolo, due punti, value, non caption, caption è, diciamo, l'etichetta di questo mio campo, il value è quello che io effettivamente scrivo all'interno di questo campo. Tutto il resto posso lasciarlo così com'è, non mi interessa, posso per esempio però andare a decidere se l'articolo deve essere pubblicato o non pubblicato, quindi se metto 0 l'articolo è non pubblicato, se metto 1 l'articolo è pubblicato, inizio e fine pubblicazione, la lingua, se io metto asterisco viene messo tutte le lingue oppure mettere solo inglese, solo italiano, non mi interessa. Access level, posso dirgli se è public, se è solo per il registro ed eccetera eccetera, in questo caso metto 1 public, così è per tutti. Featured, 0 sta per no, quindi non in evidenza, 1 sta per yes, quindi articoli in evidenza, in questo caso di default metto 0, così gli articoli che io creo vengono fuori come non in evidenza. Posso mettere i tag separati da virgola e posso alla fine andare a mettere anche il contenuto vero e proprio. Il contenuto sarà quello che io voglio mettere dentro testo. Anche qua posso o scrivere qualcosa a manona, però dopo tutti i miei articoli verrebbero fuori come il contenuto, oppure usare i placeholder che abbiamo usato prima, quindi io vado in for fields, vedo che il testo ha come name, quello che bisogna andare a prendere è questo, è il name, non la caption, ha come name testo, quindi io vado a mettere placeholder, metto testo, due punti, value, prendo e salvo. In teoria, se tutto è stato configurato come deve, a questo punto se io vado a compilare questo form, mi si dovrebbe creare un nuovo articolo con quello che gli metto dentro io nei campi. Quindi scrivo titolo di prova e testo di prova. Invia nuovo articolo. Mi salta fuori articolo inviato correttamente, che è il messaggio di feedback che io ho settato in RS form. Andiamo a vedere se nei nostri articoli è saltato fuori. Clicco su articoli ed eccolo che io qua ho titolo di prova con alias titolo di prova, che è stato ripreso dal titolo, è stato pulito, vedete sono stati messi i trattini, tolti gli spazi, eccetera, eccetera, nella categoria articoli inviati da frontend. Andiamo a vedere dentro. Ecco che abbiamo anche il testo, che è testo di prova. pubblicazione, abbiamo creato da Pixed, la data di creazione è quella che abbiamo messo, eccetera, 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 eccetera. Quindi abbiamo creato un articolo semplicemente con due campi, senza andare a fare, a modificare, a dare accessi strani agli utenti, eccetera, eccetera. Poi dopo andremo a vedere che in realtà è meglio mettere degli accessi particolari agli utenti, ma andremo a vederlo dopo. Però ecco, io semplicemente sono riuscito a dare al mio cliente, al mio utente, un formulo molto, molto, molto semplice per creare degli articoli senza dargli tutti i campi che in realtà a lui non interessano. Andiamo però a implementare questa soluzione, cerchiamo di fare qualcosa di un pochettino più chiarino. Andiamo per esempio a fare in modo che l'utente possa scegliere se fare un articolo in evidenza o meno. Quindi andiamo in rsform, aggiungiamo un campo e aggiungiamolo per esempio come drop down. Così io posso solo dire o così o così, senza che l'utente scriva lui cose sbagliate. Quindi chiamiamolo evidenza, scriviamo in evidenza, mettiamo 0, no, 1 pipe, il pipe è quello che c'è in alto a sinistra sulla tastiera sopra il backslash, sì. Perché ho messo 0 no e 1 sì? Innanzitutto, che cosa vuol dire 0 pipe no, 1 pipe sì? Allora 0 è il value del mio select, no è quello che io leggo. Questo che cosa vuol dire? Che quando invio un form io seleziono no, ma il form mi invia 0. Io seleziono sì, ma il form mi invia 1. Questo perché? Perché quando io vado a parlare con i database, per esempio, il database non sa che sì significa sì o no significa no, o pippo significa no, eccetera eccetera. Magari ragiona in 0 e 1, 0 no, 1 sì. Quindi io è giusto che gli invii 0 o che gli invii 1. In questo modo posso fare in modo che l'utente legga sì, ma in realtà venga inviato 1. Quindi faccio salve. E perché proprio 0 no e 1 sì? Andiamo a vedere. Se io torno nella parte di creazione del form properties, della creazione degli articoli, vedo che lui stesso mi dice featured 0 sta per no, 1 sta per yes. Quindi qui l'utente può scegliere, adesso abbasso il pulsante che lo metto in fondo, può scegliere se mette in evidenza sì o no tramite questa scelta di 0 e 1. A questo punto tolgo lo 0 che avevo scritto prima e metto sempre tramite i placeholder evidenza 2 punti value. Questo vuol dire che a seconda che l'utente scelga 0 o a seconda che l'utente scelga 1, a me non interessa, qui viene messo quello che sceglie l'utente. Clicchiamo su salva. Aggiorniamo. Ecco che il nostro form ha il titolo, testo e adesso anche in evidenza. Andiamo a fare una prova. Quindi scriviamo articolo in evidenza. Testo di articolo in evidenza. In evidenza mettiamo sì. Quindi verrà inviato non tanto un sì, ma un 1 e quell'1 è quello che mi permette di mettere in evidenza l'articolo. Quindi clicco sul pulsante, clicco su continua e andiamo a vedere cosa è successo. Aggiorniamo la pagina ed ecco che avrò un articolo in evidenza nella categoria articoli inviati da frontend e che sarà effettivamente in evidenza. Quindi sarà con il flag che troviamo all'interno in evidenza selezionato. Quindi io sono riuscito a creare un form un pochettino più complesso semplicemente creandomi il form ad hoc e andando a mappare quello che interessa a me tramite quel plugin di rsform direttamente all'interno del componente. Ripeto, qual è la comodità di questa cosa? Che io riesco a creare degli articoli creandomi i form come pare a me a livello di grafica, di struttura. Posso aggiungere la paginazione, posso mettere dei campi condizionali, posso fare quello che mi pare per andare a scrivere all'interno degli articoli di Joomla. Quindi all'interno del database di Joomla tramite comcontent, quindi tramite gli articoli. Ciò detto, possiamo andare ad aumentare tutto quanto. Non abbiamo limiti. Aggiungiamo un field, lo chiamiamo, facciamo un textbox e mettiamo meta descrizione, descrizione, certo, salviamo, lo aggiungiamo, lo mettiamo qua sopra e aggiungiamolo, per esempio, qui, nella parte meta description, mettiamo meta descrizione, due punti value. io salvo e chiudo, aggiorno, metto titolo, metadesk, test, metadesk, questa è la meta descrizione, in evidenza lasciamo no. invia, andiamo a vedere, lo aggiorniamo, ed ecco che abbiamo titolo metadesk, che non è in evidenza, perché io qua ho lasciato no, però se andiamo a vedere dentro, abbiamo in pubblicazione, questa è la meta descrizione. Quindi io sono andato a creare un form, ancora un filo più complesso, per andare a mettere tutto quello che voglio io, nei campi che voglio io, gestiti però da rsform, quindi non sono andato a crearmi il form, la query SQL, eccetera, lascio fare tutto rsform, perché mi è comodo, però il sistema, diciamo, macro, me lo gestisco io. Bene, potremo anche fermarci qui, ma andiamo ancora avanti, cerchiamo di fare qualcosa di ancora più complesso. Vi ricordate che nel video scorso, avevamo creato un campo aggiuntivo, che si chiamava in stock, che ci permetteva di fare delle ricerche, sono in stock, prodotti in stock, non in stock, fare delle ricerche un pochettino più avanzate, un pochettino più complesse. Utilizziamo questi campi aggiuntivi anche con rsform e con la creazione degli articoli. Come si fa? Allora, innanzitutto dobbiamo andare a vedere i nostri campi aggiuntivi. Se non ne abbiamo uno, ne creiamo uno, semplicemente con nuovo, lo chiamiamo come ci pare, pipo, plutotopolino, di tipo test, eccetera, eccetera, e lo associamo a tutte le categorie. Noi utilizziamo il campo aggiuntivo che avevamo creato la volta scorsa, quindi se noi andiamo a vedere gli articoli, vediamo che all'interno di ogni articolo ci sarà la tab campi aggiuntivi con in stock, che io posso andare a prendere e modificare. Bene, andiamo nel nostro rsform di invia nuovo articolo, creiamo un campo, sempre di tipo textbox, anzi, facciamo una cosa fatta meglio. Visto che quel campo aggiuntivo è di tipo textbox, io posso anche decidere di fare un rsform, un campo di rsform che non sia di tipo textbox, non devono essere per forza identici. Io posso per esempio prendere il value, quindi il valore di una select, e metterlo dentro un textbox dei campi aggiuntivi. Questo mi dà la possibilità di creare un sacco di cose in più a livello di struttura, di contenuti, di campi aggiuntivi. Io non ho praticamente dei limiti, quindi cerchiamo di rendere tutto un pochettino più articolato. Quindi io mi faccio un altro drop down e lo chiamo stock e scrivo per esempio prodotti in stock e metto 0 per 0. Metto 1, pipe 1, quindi 1 il valore e 1 il numero. In questo caso sono uguali, ma è un caso, potrei anche scrivere anche per esempio, facciamo così, 2, 2, oppure metto tanti, perché là c'è un textbox, quindi posso mettere anche del testo, non solo dei numeri, per scrivere più di 2. Salvo. Lo sposto qua sopra. Salvo anche qua. Se io aggiorno la mia pagina, a questo punto avrò titolo, testo, metadescrizione, in evidenza e prodotti in stock, 0, 1, 2 o più di 2. Bene, a questo punto qua dobbiamo semplicemente andare in form properties, andare sempre in create article e in fondo vediamo che abbiamo map joomla custom fields. Io ho la possibilità di mappare anche i custom fields in base a quello che l'utente mi mette nel form. Quindi clicco su toggle, in stock, quindi lui è andato a vedere quali custom fields ho, in questo caso in stock, e anche qua ci metto un placeholder di stock value. Quindi quello che io scrivo, o che seleziono in questo caso all'interno di questa tendina, bene, mi salterà fuori, anche qua, dentro il mio articolo. Ma, c'è un ma, questa cosa non funzionerà, perché? Perché voglio farvi vedere, perché è un problema che mi è saltato fuori, mi ha tenuto un sacco di tempo, poi ho capito qual era il problema, quindi visto che è un problema che probabilmente salterà fuori anche voi, voglio farvi vedere come risolverlo da zero. Quindi, se io salvo, infatti, facciamo la dimostrazione dimostrata, come si suol dire. Aggiorno, scrivo, titolo di articolo con campo aggiuntivo, testo, testo, in evidenza no, prodotti in stock, metto due, invia nuovo articolo, articolo inviato correttamente, io vedo che il mio articolo, c'è, titolo e articolo, un campo aggiuntivo, ma se vado a vedere nei campi aggiuntivi, qui non c'è niente, non è stato inserito il campo aggiuntivo, nonostante io l'abbia mappato. Perché? Facciamo una parentesi, rsform, per alcune cose, utilizza la forza bruta, per esempio, per creare articoli, semplicemente scrive all'interno della tabella com content, quindi lui crea un articolo, scrivendo semplicemente i campi all'interno delle tabelle, quindi delle colonne della tabella com content. Per alcune feature aggiuntive, come per esempio l'inserimento di campi aggiuntivi, in realtà non usa la forza bruta, usa le API di Joomla, e per fortuna dico io, nel senso che utilizza tutte le funzioni interne di Joomla per l'inserimento dei campi aggiuntivi, quindi non scrive fisicamente all'interno del database. Questo perché? Perché innanzitutto è più semplice, è più sicuro, si basa anche qui sul core di Joomla, e basandosi sul core di Joomla, è ovvio che ha tutti i parametri di sicurezza, e di aggiornamento che ti può offrire il core di Joomla. Però ovviamente ha delle limitazioni, le limitazioni quali sono? È che si basa sulle ACL del core di Joomla. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, quando noi andiamo a creare un campo aggiuntivo di Joomla, di default, non può essere modificato da un utente guest. o da un utente public. Questo vuol dire che non può essere modificato da chi non è loggato, da chi non è registrato sul sito web. Questo però è una questione ovviamente di sicurezza, noi non vogliamo che chiunque arrivi sul sito, qualsiasi sconosciuto, possa andare a modificare il nostro sito. Quindi i campi aggiuntivi non possono essere modificati da public. Come posso risolvere questo problema? Ho due modi. Il primo è brutale, cioè dare la possibilità al campo aggiuntivo di essere modificato da public, che è quello che faremo adesso. Il secondo invece è quello di lasciare tutto così com'è, e rendere questo form modificabile solo, comunque poter inviare questo form solo a chi è registrato, quindi solo a registered. Bene, il secondo metodo è sicuramente il più sicuro, e in un prossimo video andremo a vedere come fare. Qui ora andremo semplicemente a dire, guarda, facciamo in modo che chiunque possa modificare questo campo. Ripeto, non è la scelta giusta da fare se state creando un qualcosa aperto al pubblico, perché se no in realtà anche questo form, chi arriva su questo form non è registrato, prende, comincia a scrivere, vi riempie il database di articoli di Joomla. Ma mi serve per farvi vedere come funziona. Quindi noi a questo punto andiamo nel campo, aggiuntivo. Il campo aggiuntivo si chiama in stock. Vado in permessi, che è l'ultima tab in fondo, e sotto public faccio modifica valore campo aggiuntivo consentita. Diventa verde, salvo chiudo, e a questo punto ritesto il mio sistema. Scrivo titolo con campo ok, testo, 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 in evidenza, sì, e prodotti in stock ci mettiamo uno, giusto per fare una differenza rispetto a prima. Invia nuovo articolo. Tutto ok, molto bene. Torniamo negli articoli. In questo caso, come vedete, è in evidenza perché l'ho messo nella tendina. Titolo con campo ok, entro dentro, ed ecco che nei campi aggiuntivi io avrò uno. Ha funzionato. Perché? Perché public, in questo caso, aveva il permesso di scrivere il campo aggiuntivo. Quindi, se settate tutto quanto, mettete i campi aggiuntivi, ma quelli e solo quelli non vengono scritti, probabilmente è un problema di permessi dei singoli campi aggiuntivi. Bene. Direi che questa prima parte abbiamo già messo un sacco di carne al fuoco, abbiamo creato un form, ce lo creiamo come ci pare a noi, tramite questo form siamo andati a creare quella che sarà la base, diciamo, del nostro gestionale, del nostro gestore magazzino, di quello che vogliamo, tramite gli articoli che avranno la loro categoria, quindi la categoria di articoli inviati da front-end in questo caso, ognuno con i suoi parametri, titolo, testo, ma soprattutto campi aggiuntivi. Vi ricordate che nel video precedente noi avevamo fatto un sistema di ricerca che ricercava sia sul titolo che sul campo aggiuntivo in stock? Se non ve lo ricordate, tornate a vedere il video della settimana scorsa. Comunque l'avevamo fatto tramite un form che è creato qua in un articolo chiamato home page, che a questo punto gli cambiamo nome, lo chiamiamo per esempio ricerca avanzata. Prendiamo e salviamo. Andiamo a inserirlo all'interno di un menu, quindi prendiamo main menu, nuovo, ah, ce l'avevamo già, guarda. Qua, ricerca avanzata, singolo articolo che mi va a prendere l'articolo ricerca avanzata. Molto bene. Quindi io aggiorno, eccolo che me lo ritrovo qua, sul menu di destra, ricerca avanzata, e avrò la possibilità di mettere un titolo e il valore dello stock. Vi ricordate che io posso andare a cercare tra gli articoli di Joomla in base al valore che hanno all'interno dello stock. Quindi io se cerco campo con valore di stock 2, non mi salta fuori nulla. Se io cerco campo, così si vede un po' meglio, con valore di stock 1, ecco che mi salta fuori il mio articolo. Questo perché? Perché vi ricordate che noi facevamo un controllo incrociato tra il titolo, quindi la parola campo c'è sì. E il valore di stock qual è? Qua. È 2? No. Quindi nella prima ricerca non mi è saltato fuori niente, nella seconda ricerca io ho messo 1, quindi mi è saltato fuori questo articolo. Quindi quello che abbiamo fatto prima di inserimento di dati nel database degli articoli di Joomla funziona, si integra con quello che abbiamo fatto la volta scorsa di ricerca nel database in specifici casi. In quel caso dovevamo cercare un titolo con un determinato valore di stock ed è saltato fuori. Perché? Perché l'abbiamo messo dentro tramite rsform. Quindi questa parte qui che era la prima parte che ci tenevo a farla vedere subito era quella di gestione dell'inserimento di dati tramite rsform da frontend. Perché usiamo rsform? perché posso crearmi il form come mi pare. Posso poi ovviamente mettergli tutti i suoi sistemi di sicurezza, metterlo solo a registrere, metterlo solo a gruppi e creargli la CL e fare quello che mi pare perché sto utilizzando il core di Joomla. Quindi io la creazione degli utenti la lascio fare a Joomla, la gestione del recupero password la lascio fare a Joomla, la... tutto quello che c'è attorno se lo fa Joomla. A me interessa solo la possibilità di scrivere dentro il database ed eventualmente di leggerlo tramite quel form che abbiamo fatto la volta scorsa. Quindi questa è la base. Ma all'inizio vi avevo detto che avremmo fatto di più. Quindi scrivere all'interno per esempio di una tabella che non fa parte del core di Joomla. Che cosa vuol dire? Come sapete Joomla ha un... al suo interno nel suo database un insieme di tabelle che sono la tabella del com content degli utenti eccetera eccetera sono decine di tabelle che servono a far funzionare il nostro Joomla. Possiamo assolutamente senza problemi andare a scrivere all'interno del nostro database creando per esempio una nuova tabella che chiameremo che so tabella magazzino in cui andremo a inserire quello che ci interessa a noi. Perché? Perché non vogliamo utilizzare una tabella di Joomla non vogliamo utilizzare gli articoli per un qualche motivo vogliamo fare una cosa nostra. Oppure ancora meglio vogliamo andare a scrivere all'interno di un database MySQL esterno al nostro Joomla per esempio voglio andare a scrivere all'interno di un database di un altro sito web collegandomi in remoto al suo database posso farlo? Certo che posso farlo direttamente tramite una funzione nativa di rsform andiamo a vedere come funziona quindi come prima cosa andiamo a crearci una nuova tabella all'interno del nostro database per farlo utilizzeremo phpmyadmin phpmyadmin è un tema che praticamente tutti gli hosting vi danno fondamentalmente a gratis e se non ve lo danno cambiate hosting che vi permette di avere una visualizzazione grafica del database e di andare a fare modifiche delle query semplici in modo veloce ovviamente le query complesse dovete comunque scrivervele a mano però delle query semplici semplicemente per creare dei campi o qualsiasi altra cosa possiamo farlo direttamente da phpmyadmin devo andare a vedere qual è il mio database per vedere quale database utilizzo vado in pannello di controllo configurazione globale server e vedo che eccolo qua il mio database si chiama zoomdb andiamo a vedere ed eccolo qua qui dentro ci sono un sacco di tabelle perché in questo database ho installato vari vari zoomla però noi possiamo tranquillamente creare una nuova tabella qua a sinistra e la chiamiamo magazzino allora vi ripeto non ho la pretesa in questo video di fare lezioni specifiche su come funziona SQL come funziona MySQL quindi faremo una tabella brutale chiamiamola così in cui ci sarà semplicemente un ID ad auto incremento quindi aumenterà man mano che vengono inserite cose perché io ho bisogno di univoci per poterle poi recuperare e andremo a mettere semplicemente un nome un testo non voglio mettere nient'altro perché se no dopo diventerebbe più complesso di quello che ci serve mi serve solo farvi vedere come funziona poi è ovvio che sta a voi crearvi il vostro database ad hoc per quello che vi serve quindi creiamo la colonna di tipo ID di int mi va bene può essere di tipo indice primario quindi per comodità e gli mettiamo AI auto increment cosa vuol dire? vuol dire che incrementa da solo man mano che vado a inserire cose all'interno della mia tabella quindi uno due tre ci penserà MySQL ci penserà il motore di database a incrementare quel numero andiamo anche a mettere il nome per esempio il nome del prodotto di tipo text lasciamolo tutto così com'è e andiamo a mettere anche la descrizione anche in questo caso possiamo metterlo di tipo text anche qui vi ripeto non voglio stare a spiegare troppo come funziona PHP MyAdmin come funziona un database se no diventa un video lunghissimo e perdiamo un po' il focus di questo video qua però noi ecco quello che noi andiamo a fare adesso è cliccare su salva e andare a vedere che abbiamo creato una tabella andiamo pagina 2 andiamo a cercarla perché qui ho veramente tante tabelle qua magazzino ci clicco sopra sarà vuota però avrò i campi che ho creato prima andiamo in struttura andiamo a vedere i campi saranno id nome e descrizione fine niente di più niente di meno andiamo a questo punto a inserire cose all'interno di questa tabella come si fa sempre con rsform allora innanzitutto se noi torniamo in create article lo mettiamo come no io a questo punto non voglio creare degli articoli quindi sto disabilitando diciamo il plugin perché non voglio più creare articoli voglio scrivere all'interno di un'altra tabella del database per farlo devo andare sempre in extras ma non in create article ma in mappings che trovate qua a sinistra mappings che cosa vuol dire? vuol dire appunto mappatura quindi io dico quello che ho inserito nel campo pippo del mio forum va messo dentro il valore della colonna topolino della mia tabella quindi io creo una nuova query e lui mi dirà ok che tipo di query vuoi fare? vi ricordate c'era query tipo insert update delete per andare a modificare il database in questo caso voglio fare un inserimento quindi una query di tipo insert locale quindi sul database dove è installato questo Joomla qua oppure posso ovviamente mettere anche remoto come vi dicevo se voglio collegarmi a un altro database clicco su connect to database quindi lui si connette a se stesso e tira fuori una lista delle tabelle che ho a disposizione tra tutte le varie io ho magazzino che è quella che ho appena creato con phpMyAdmino a questo punto funziona paro paro come i placeholder che abbiamo utilizzato prima per gli articoli id lo lasciamo vuoto perché? perché abbiamo detto che ci pensa MySQL a inserirlo a fare l'auto increment quindi lo lasciamo vuoto nome e descrizione saranno quelli dei campi nome e testo che abbiamo qua come si fa? tramite placeholder quindi avrò graffa titolo due punti value e in descrizione avrò graffa testo due punti value salva e chiudi andiamo a vedere inform properties ecco qua che mi ha creato una query me la legge anche quindi me la fa vedere che sarà di tipo insert into tabella magazzino nelle colonne nome e descrizioni metti valori di titolo value e testo value andiamo a vedere se funziona aggiorniamo la pagina titolo mettiamo nome del prodotto e testo mettiamo descrizione del prodotto gli altri posso lasciarli così come sono perché? perché non li ho mappati quindi rimango nel lettere da qualche parte non verranno inseriti da nessuna parte del database perché non li ho messi come dicevamo qua nel mapping quindi non verranno inseriti qua a me per il momento serve solo che venga inserito il titolo e il testo quindi clicco su invia nuovo articolo articolo inviato correttamente adesso andiamo a vedere se effettivamente qua sono stati inseriti quei valori che gli ho dato io aggiorniamo la pagina ed ecco che qua noi abbiamo la nostra riga con i d1 parte da 1 e va avanti come dicevamo con nome del prodotto e descrizione del prodotto aggiungiamo un altro nome prodotto 2 testo prodotto 2 invia nuovo articolo aggiorniamo ed ecco che abbiamo nome prodotto 2 testo prodotto 2 con i d2 che è andato avanti dicevamo eccetera eccetera quindi io grazie a rsform sono riuscito a popolare una tabella del mio database di joomla una tabella esterna a joomla quindi potrebbe essere una tabella di un altro programma una tabella di un altro joomla una tabella di un wordpress quello che volete io posso tramite rsform andare a inserire modificare e cancellare volendo aggiornare eccetera valori dentro tabelle di altri siti web bene direi che anche oggi abbiamo messo un sacco di carne al fuoco giusto per fare un mini recap ho utilizzato rsform per aiutarmi a creare un form quindi un form in html e delle query che facessero qualcosa all'inizio abbiamo visto come creare dei nuovi articoli perché perché magari io voglio popolare il mio database utilizzando il core il core di joomla quindi gli articoli quindi io per esempio nulla mi impedisce per esempio di crearmi nel menu un nuovo menu una nuova voce chiamata articoli inseriti da frontend metto articoli categoria blog e seleziono la categoria che abbiamo creato prima quindi io faccio salve e chiudi aggiorno articoli inseriti da frontend e questi qui come vedete sono tutti gli articoli che paro paro noi abbiamo inserito tramite rsform quindi non li abbiamo inseriti né con il pannello di controllo né da frontend col sistema nativo di joomla abbiamo utilizzato solo rsform ma si sono integrati perfettamente sono a tutto a tutto tondo degli articoli di joomla se invece non vogliamo utilizzare il com content quindi il core di joomla possiamo anche utilizzare rsform per scrivere dentro altre tabelle del nostro database o di database esterni dicendogli cosa andare a scrivere come andarla a scrivere attraverso il sistema del mappings quindi la mappatura dei miei valori di rsform dentro la tabella del database mysql se qualcosa non è chiaro scrivetemi mandatemi dei messaggi delle mail come vedete cerco di rispondere sempre a tutto a tutti se questo video vi è piaciuto vi chiedo un like una condivisione iscrizione al canale giusto per farmi per darmi un feedback che comunque il sistema funziona quello che sto facendo è di aiuto a qualcuno e per il resto niente spero che sia stato utile per il vostro lavoro per qualsiasi cosa come vi dicevo contattatemi direi che è tutto buon lavoro a tutti quanti ciao ciao